La scogliosi è una deformazione della colonna vertebrale che nei casi gravi può essere molto dolorosa e causare anche altri tipi di problemi. La tempestività della diagnosi è quindi fondamentale, l'età giusta per valutare e diagnosticare la scogliosi è tra gli 8 e i 10 anni. Da queste considerazioni parte il progetto Vivi in Equilibrio, la campagna di prevenzione volta a favorire la diagnosi tempestiva della scogliosi promossa dal comune di Pineto e dall'azienda sanitaria Radio Sanit di Roseto. Allora questo progetto è una sorta di continuum rispetto ad un progetto già avviato da noi come amministrazione in primavera, la primavera della salute e della prevenzione dove abbiamo coinvolto già la scuola e il mondo dell'associazionismo perché riteniamo che la politica abbia il dovere di occuparsi di formazione, informazione e prevenzione ed è quello che stiamo facendo perché attraverso queste tre importanti parole passa anche il diritto alla salute. Vivi in Equilibrio si rivolge come detto ai bambini tra gli 8 e i 10 anni iscritti alle classi dalla terza alla quinta elementare dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII, ai quali Radio Sanit offrirà una visita specialistica gratuita finalizzata alla valutazione posturale globale con focus sulla diagnosi precoce della patologia della schiena. La scogliosi può essere molto dolorosa se non presa in tempo. La fascia di età corretta per essere efficace è quella tra gli 8 e i 10 anni. Noi andremo per le scuole a proporre questo progetto. I bambini avranno la possibilità di fare una visita gratuita con una dottoressa fisiatra. Noi cerchiamo di prevenire, quindi non facciamo mai riportare ai bambini degli zaini molto pesanti. Tutto il materiale che possono lasciare a scuola lo facciamo. Molte volte però anche quando sono seduti nei banchi la postura non è corretta. Ora sono in una classe prima e già si nota che non stanno seduti corretti.